Nei tratti informali dell'elenco delle opere che il PNRR prevederà sono previste le due tranvie con un investimento di 220 milioni sulla tranvia per Campi Bisenzio di 150 su quella di Bagnarripoli. Quindi il fatto che nel PNRR vi sia appunto nel capitolo relativo all'ambiente ma che significa trasporto pubblico che limita l'emissione di CO2 nell'atmosfera, ecco che la Toscana ha queste possibilità di finanziamento dei due tranvie che significa anche una cosa molto precisa, entrare nel PNRR significa vederle realizzate entro il 2026. La notizia ha spiegato il presidente Gianni arrivata stamani dopo aver vissuto numerose riunioni al ministero e aver parlato con Roma. Il governatore ha anche detto che capitolo per capitolo si sta costruendo un piano di investimenti dall'Europa che sta portando molte risorse alla Toscana. Una grande notizia, arrivano 200 milioni per la realizzazione entro il 2026 della linea 4.2 per Campi Bisenzio e 150 per la linea 3 per Bagnarripoli. Cresce la tramvia e la mobilità sostenibile in città, meno inquinamento e più rispetto dell'ambiente. Così su Twitter il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato la notizia.